Ciao a tutti, benvenuti su Paperless Pringso! Io sono Martina e oggi vi mostro come creare questa scritta effetto neon su Procreate, quindi se vi interessa il tutorial su come realizzarla, rimanete con me e iniziamo subito dopo la sigla! Prima di iniziare il video ci tengo a darvi una comunicazione, cioè che per tutto il mese di luglio e il mese di agosto, poi non so dopo come andrà la situazione, ma farò un solo video a settimana, perché ho visto che le visualizzazioni sono notevolmente calate in questo periodo, presumo per l'estate, però insomma il motivo di preciso non lo so e dato che io sono molto impegnata e ritagliarmi del tempo per girare, editare e caricare video è abbastanza difficile in questo periodo, colgo la palla al balzo e passo, come vi dicevo, a un solo video a settimana, che sarà come quello di oggi al martedì. Orario non lo so, perché dipende un po' da quando riesco a girare, editare e caricare. Comunque sappiate che per luglio e agosto ci sarà un solo video a settimana, anche perché a luglio vi ricordo che c'è il corso su Procreate, vi lascio sempre il link in infobox se vi interessa dare un'occhiata ed eventualmente iscrivervi. Affrettatevi perché lunedì chiudono le iscrizioni, quindi appunto vi consiglio di iscrivervi se volete, se vi interessa. Vi spiego appunto in quel corso come utilizzare Procreate in tutte le sue funzioni. Veniamo però al succo del video, cioè come realizzare una scritta neon su Procreate. Allora, innanzitutto come sempre vado a creare una tela quadrata, così almeno se la volete mettere su Instagram è già quadrata. E prima cosa che faccio è ovviamente cambiare lo sfondo mettendolo nero, perché il neon risalta di più sul nero. Poi vado a prendere un pennello monoline, quindi va benissimo questo, e se voglio attivo anche da tela la guida disegno, che devo ovviamente modificare perché ce l'ho in nera e sul nero non si vede niente, quindi la metterò bianca. Ok, poi, quindi appunto con il mio monoline ha una grandezza, ok così dovrebbe andare bene, forse anche leggermente più grande, no troppo, un po' meno, troppo meno, ok così. Vado a prendere un colore neon appunto. Io ho, per esempio, questo rosa, che secondo me è abbastanza neon, e vado a scrivere quello che voglio scrivere, io in questo caso scriverò neon. Lo potete fare sia con il lettering, sia in, per esempio, stampatello. Io lo farò in stampatello, in questo caso, perché mi risulta più semplice, però è carino anche in monoline. Tutto ve lo faccio vedere, così almeno... Vedete che sto tenendo giù l'Apple Pencil prima di passare alla lettera successiva, perché, come sapete, questo crea le forme, le quick shape, quindi delle linee dritte, oppure dei cerchi, e lissi, eccetera. Se volete imparare a usare Procreate, vi lascio anche qua nelle schede la playlist Procreate per principianti. Il corso è decisamente più completo, è uno sviluppo, diciamo, di quella playlist. Bene, prima cosa che dobbiamo fare... Allora, innanzitutto sarebbe meglio farlo su due livelli separati, però vabbè, non è un problema. Aspettate che voglio spostare un po'. Ecco, così è centrato. Quindi vado a duplicare questo livello. Nel livello sottostante, quindi quello che trovate più in basso, vado a cliccare e poi scegliere Blocca Alfa. Questo mi blocca, appunto, tutta la trasparenza del livello, quindi io vado a lavorare solo sul contenuto di quel livello. Poi scelgo il bianco bianco proprio e vado a riempire questo livello. Tolgo il Blocca Alfa, si può farlo anche facendo swipe con due dita verso destra, sia per attivarlo che per disattivarlo. E qua su, da regolazioni, vado a controllo sfocatura. Scelgo livello e vado a sfocare leggermente questo livello. Ok, inizialmente non lo faccio tantissimo, poi vi spiego perché. Poi vado a duplicare questo livello e vedete che già mi viene un effetto più neon. Posso, a questo punto, unire questi due livelli e vado di nuovo a duplicarli. Nel livello sottostante vado di nuovo a cercare controllo sfocatura e sfoco ancora un pochino, in modo da dare proprio l'impressione della scritta. Posso anche abbassare un pochino l'opacità per non farlo troppo evidente. Poi vado su un livello successivo, cioè vado a creare un nuovo livello, scusate, sopra la scritta colorata e su questo livello, sempre con il monoline, però un po' più piccolo, vado a creare, ancora più piccolo, delle linee al centro della mia scritta. Aspettate perché forse è meglio se lo faccio ancora più piccolo, così è troppo. Boh, vediamo se viene bene, altrimenti poi ci regoliamo di conseguenza. Quindi vado appunto a riprendere tutta la mia scritta disegnando questa linea bianca centrale, poi capirete perché. Qui vediamo se riusciamo. Ok, si può anche fare una cosa. Potete cliccare su modifica forma e regolarvela in modo che stia proprio centrata. Ogni tanto Procreate ultimamente mi dà problemi, speriamo che non sia perché l'iPad inizia ad avere i suoi anni. Ok, quindi l'ultima e poi passiamo all'altra scritta. Perché sinceramente mi trovo molto bene con questo iPad. Non vorrei cambiarlo, anche perché l'iPad veramente costa tantissimo. Qui vado un po' più spedita, non è vero perché non riesco. Non è che debba essere precisissima, quindi non vi preoccupate. Anche perché avendolo fatto su un nuovo livello, se c'è qualcosa che non va, possiamo sempre andare a cancellare solo questa scritta. Quindi non preoccupatevi. Ok, ultimo, così poi dopo vi mostro il risultato. Cosa dobbiamo fare adesso? Di nuovo controllo sfocatura. Sempre livello. E qui vado a sfocare veramente tanto. Perché deve semplicemente darci l'impressione che sia illuminato anche davanti e basso anche l'opacità di tanto. E che sia tipo tondeggiante. Tolgo la guida disegno, così almeno si vede meglio. Ed ecco qua, creata la nostra scritta al neon. Io spero che questo mini tutorial vi sia piaciuto. In tal caso lasciatemi un pollicino in su. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Tra cui anche tanti altri tutorial su Procreate. Io vi ricordo che venerdì non ci sarà nessun video. Ci vediamo direttamente martedì. Quindi al prossimo video vi mando un bacione. Ciao! Ciao!